no 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 salvo a tutti i ragazzi a cui c'è l'editorio numero 61 della serie low farm eh 61 vero? yeah sono un genio o voglio dire e che stai facendo Dragon Cat? sto andando a seminare il campo 40 a mais wow e perchè fai questa cosa Dragon Cat? e perchè si raccoglierà anche un po' di mais per la prima volta di pezzattivo no perchè no mais è raccolto si si la prima volta non trinciato l'ho raccolto perchè abbiamo scaricato tempo fa non so se avevamo già detto comunque due mod cioè una mod che ti da praticamente la barra da da grano e la barra da mais però di 12 metri mi sembra tutte e due quindi come quella che abbiamo ora come quella da da grano che abbiamo ora sulla class però anche quella da mais di quella dimensione si quindi abbiamo deciso di fare un po' di mais giusto per non fare un raccolto di 33 miliardi di quintali di colza anche perchè è in grande richiesta se si riesce a fare abbastanza veloce credo che sia impossibile però no perchè dura abbastanza grande richiesto due tre giorni allora forte ci devo riuscire allora io prendo il mio ehm c'è con cat? si quando puoi fai un attimo da switch alla tele trattori e vedi qualsiasi è successo alla class perchè ho visto come ho sono uscito dalla class ho visto la class volare mmm ma guarderò si con dei tempos tranquillo quando vuoi che l'ho vista fuori dal capanno dove l'avevo vedere vabbè lo porto io sto trattore fino a se vuole quello che c'è del sopra oh mio dio la vedo da qui è un cat guarda si vede da qui sto rimando con te mi arrivo no non lo vedo la porta a scendere ma non ho capito come c'è arrivata qui ehi bisogna recuperarla mmm cosa? non è messa molto bene bisogna per forza fare quello che hai appena fatto questo eh si non ho capito per quale motivo si è ridotto in quel modo però va bene ma ce lo porti a fare questa bellissima bisogna seminare anche questo combo che lo fa è che quello giù è bello grosso è anche questo quindi bisogna segnare questo è molto più grosso fidati vabbè comunque il tuo semino questo dai è una storia che se dobbiamo recuperare anche la barra è tutto io non devo cercare di sistemare le mie poi quando puoi vieni qui con noi con i coltivatori gli metti coso di grano a tempo c'è la creare campi e passivi che c'è troppa erba e non cresce più qui di fronte al museo insomma dalla parte dove mettiamo i rimorchi e attrezzi scusa in macchina quell'erba non mi ero un vero posso passaggi col coltivatore si 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 posso con da l'altro faccio la strada si si me ne ho dimenticato a te bastava usare il coltivatore ma perchè stupido che dobbiamo fare in tre giorni giusto un po' di più 4 5 5 giorni 5 giorni 4 giorni quelli che siano no 4 giorni 9 video di farming più già abbiamo fatti 3 5 5 5 5 3 giorni per fare 9 video di farming più archivio di altre serie se volete per 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 5 5 si aspetta l'anno fatto sono da realizzare d'offare io penso che io penso che 9 video in una notte penso che prenderò il pc e migrerò in islanda vabbè ora c'è anche il computer nuovo eh sì ma la connessione sembra la stessa ribberta vabbè per un meno pronti sbrucia a tenerlo acceduto la notte eh sperando che renderizza bene che ci mette poco ma dov'è metterci troppo non diffidare mai il pc nuovo che non è mai utilizzato a fare quelle cose vabbè si vediamo bene allora eh sì e anche se al pc nuovo a lui cosa che non è stata cambiata la scheda video era anche l'unica cosa che serve per fare rendere mh mh il tuo campo non so per quale motivo ma è già si infatti è notato ah ma anche il 40 è già a posto serio? mh ah però con il lipo l'avevo fatto io prima con il 40 non lo sapevo il 40 si era passato ma è perchè non ci si va più da un anno ci ero passato io quella volta e te eri a tagliare l'erba che giravi te? che giravi te? stia hai diventato di e di è diventato quindi se prebo divano verso sinistra bello mi timer l'ha messo timer aspetta controllo tanto rischio si c'è il timer comunque ragazzi potreste anche non vedere mai questo video e quindi che lo so che dice a fare? vabbè se lo state vedendo dobbiamo fare un gran complimento al pc di te con cat perchè ha deciso di renderizzare 3 video contemporaneamente in una notte vedrai non mi sveglio di certo stanotte a cambiare i rendering si allora se lui riesce a farne 3 in una notte io ho deciso di provare a fare 6 in una notte vai oppure 9 ne farò 4 con caldasia e 4 con saliveres provaci ma se non esplode no non è tanto il fatto esplode se la raffreddazione ce l'hai buona non esplode però forse domani sera sei ancora da renderizzare no ma io ho tutto il tempo per realizzare fare gli upload in queste ora indoriato da quello che si chiama carmone ma di preso c vero forse si riuscirà a fare un video anche con lui quindi dobbiamo mettere pensate che dobbiamo mettereci avanti qui siamo qui abbiamo delle date dai facciamo vedere delle date martedì 5 oggi dove è uscita la puntata numero 58 noi ora stiamo registrando la 61 si e dobbiamo registrare 3 entro il 8 entro l'8 dobbiamo registrare fino alla 70 e dobbiamo fare anche qualche altro video perchè non mi va di far uscire solo fa la video oltre a fino alla 70 eh oltre a fino alla 70 ah comunque eh eh questo non ve l'ho ancora detto inedito allora non vi dico dov'è che che l'ho sentito dire dov'è da dove l'ho saputo perchè non lo ricordo più nemmeno io però sembra ufficiale diciamo è ufficiale anzi eh fonti non mi ricordo ti ripeto non mi ricordo dove l'ho letto dove l'ho vè però so chi l'ha detto fonti quindi l'agent software i com'è quelle di farming simulator insomma i sviluppatori farming simulator eh la nuova versione di farming simulator sarà la 2015 auguri i maschi o femmili come volete preferite rilascio una scelta visto quando sono gentile v 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 vendida v v font v z v fortnight lo posso si noto stiamo chiedendo anche i discorsi da dire si infatti è quello il problema perchè fare tanti video tutti insieme e poi arrivi al terzo quarto video non sai più che cazzo dire potrei chissi alla sparare cazzate e non ho bell'idea vediamo a che punto sta al tizio segnala il campo 40 andiamo se sui c'hanno tutti i trattori ci arrivo no c'era già arrivato facciamo andare all'altro verso non uno loro vanno a 5 persi che deve bastare tutte le volte il seminato sullo no si verrà ma è più bello così non è incrociato fai un po' come vuoi qui c'è ancora qualche gambetta di provvedere dell'ultima volta che abbiamo seminato wow ti senti figo per questa cosa no dimmi ti senti figo? no perché non ti senti figo? perché no eppure andrebbe fatto un campo 40 tutto accolso prima un po' lo faremo a campo 40 o quel pezzetto del 40 no 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 tutto tutto il campo 40 questo abbiamo l'erba oh beh, si disseminerà prima un po' l'erba ma fai te no 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 non ci basti te con l'arato per togliere tutta quell'erba mi ricordo che l'erba la puoi togliere solamente con l'arato mhm che dici per te possiamo prendere alla moda quella del doppierato no no io direi compriamo il campo 1 facciamo quello facciamo quello ah volente si si va bene anche quello va bene anche quello va bene anche quello da fare tutto accolso tanto come dimensione sono super giuguale come madonna da tirare a un filo nero mhm no non tanto però faccio la forma fatta un po' meglio anche che punto siamo della puntata? ma ho un filo uomo di similare si dipende dove oh non vediamo cosa sta dire il 14 ci ha finito mai scusate se non sto guidando io mi sto facendo guidare il guidatore ma comincio comincerei a fare cose un pochino strane quindi bene che non guido la stanchezza e i mal alle mani cominciano a farsi sentire addirittura mmm e tanto se tengo gli occhi aperti fede dopo io pensavo di fare altre due puntate ora mmm si si se abbiamo avuto questi problemi di pc era tutto più semplice perchè avevamo due settimane di tempo per ammazzaggiarci eh infatti e anche presto del solito cioè del solito appunto presto non è diciamo però rispetto all'orario in genere si girano le puntate anche presto però sono stanco stasera no quindi mi stia dicendo che non posso girare due video io? si si te da solo si no con te no 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 ma è cattivo bah è proprio cattivo eh lo so comunque ci vuole lo spirito di carbonio no noi potremmo fare anche una puntata anticipativa del gioco che ancora non abbiamo mai fatto anzi ce ne avremmo due volano dei giochi che ancora non abbiamo mai fatto video sicuramente ce l'hai io come ora solamente te però ok vabbè te potresti avere lì un po' tempo si nel tempo di download con le connessioni italiane quindi nella media di mille tre mille quattrocento anni su per giù comunque tranquilli ragazzi abbiamo giochi da proporvi e ripeto quello che ho detto in un paio di video fa però mai non so che video era fai a chi sapere se mi interessa qualcosa di se legge un simulator è lo scorso video vero serio? mhm non ci avete ancora scritto nei commenti iscriveteci mi piace confermi da con carta si prima tutto il luogo lo vedono ma comunque in un giorno di distanza perciò e come sei messo te con la similatura? mhm beh manca qua un bel po' son piccinezze semiatrici purtroppo no oddio cos'era? non lo so anche il microfono ha deciso no basta non ce la faccio più non voglio più registrare dici? io non lo sento io non lo sento ma loro l'avranno sentito di sicuro quindi ti assicuro ha fatto un rumore bruttissimo ok non si ferma più il timer ok che vuoi fare? vuoi chiudere la puntata qui? vabbè se a finire il tempo chiudiamolo intanto finiamo di seminare a sto pezzo vediamo se ce la faccio e rimane sveglio se no se no finirà il nostro amico Kepler o quel poco che rimane io comincio ad utilizzare i video vabbè vero che per questa puntata tutto che voce sexy donna mia voce nasale sexy anale no la voce anale caro ce l'hai te no no vabbò dai direi che ci vediamo nel prossimo video sempre in questo K anale ok nel solito K anale di TeamSpeak anche no ragazzi voi non ci siete in questo canale di TeamSpeak no ci siamo noi va bene anzi magari un giorno quando avremo qualche soldino in più perchè non dovremo comprarci i giochi compriamo anche un bel server di TeamSpeak da fare pubblico per tutti voi che ci seguite nel nostro canale no non è vero è verissimo è verissimo quando Kepler diventa di vincere il superenalotto ce lo compra lui ma è verissimo lo di canale 5 si bravo basta dopo questa cazzata direi possiamo aiutare la puntata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti